Ma cos'è che... Oh che fico... Aspettate un attimo... Questo tizio qua l'aveva fatto tipo con queste immagini qua... Si, 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 è esattamente quello con le francesi... Parti con sempre un buone quando vuoi Che hardware interessante hai? Allora... Questo è il famoso coso che si riordina nell'America ed è un vicio trasmettitore di aranimo Praticamente il bello è che tu basta che prendi, ci attacchi dei fili alla borde e non devi fare nient'altro Questo ti permette di ricevere e trasmettere anche su più canali Ottimo! E ha velocità di massimo 115 km al secondo Ok, ma per piccole cose... Kilo bit al secondo, si Ottimo! E poi... Questo coso qua ha un... Proprio il processore qua ha un DAC Che quindi può sputare fuori audio su questo filo qui Avendo il dominio si può fare più di più canali Dopo... Ma è da... Oh! Eh sì! Cioè... 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 Quello è tutto! E l'audio che sta sputtando povi è 44,1 KHz Allora... Prima sei domini... Che si dice in qualche cosa, quindi stessa qualità con il WC Comunque... Una cosa... Questa è la board E... Abbiamo fatto un programmino che... Allora apriamolo... Che manda un pacchetto tramite questo Moodle Dino Radio a 433 MHz Allora... E lo riceve quell'altra board Che poi quando riceve il pacchetto da questa Fa partire... Un file audio... E... Non abbiamo... Con delle casse esterne Sì questo... Premendo questo bottone viene inviato il pacchetto Si... L'ho già fatto Se facciamo... Mettere... Ma hai trovato una cosa che ho trovato... Ma è una cosa che ho trovato... È mercoledì... È un'occhiata... Questa è un'occhiata! È il teo che è tutto a cuore! È un'occhiata... È il teo che è tutto a cuore! Basta Però adesso cambiamo e a posto di questo suono mettiamo It's over 9000 E il C'è il trombone qua Eh aspetta che hai staccato il filo No Ci abbiamo quello di backup Non ci facciamo mancare niente Dai cazzo Ah ah giusto Se vai qua Dai cazzo E poi c'è anche il bottone Dai cazzo Allora io questa direi di lasciarla insieme Perché ha già il filo fatto così Ok E mentre mi porterò a casa Quindi questa qua che non c'è il filo È Ok E Grazie a tutti